È un peccato contro Gesù Cristo, così commenta la signora Lidia mentre mostra al TG Max i pacchi di alimenti prodotti con marchio dell'Unione Europea e abbandonati come rifiuti in un fosso in Contrada Fontanelle a Lanciano, assieme a chili e chili di filoni di pane fresco. Suo figlio li ha recuperati, ci ha riempito un moto possibile, racconta ancora in credula per tanto spreco, pasta, latte e biscotti, conserve di ogni tipo dalle confetture e legumi, tutti alimenti ancora consumabili con scadenza da ottobre 2016 a tutto il 2017 e anche 2018. Non sono commerciabili, c'è scritto sulle confezioni, perché sono alimenti destinati ai più bisognosi, con produzioni che provengono dalla Spagna, come le confetture di pesche, e dall'Italia, come il latte della ditta Giovanni Agnelli SNC di Matera, tutti pagati dall'Unione Europea. Aiuto UE Feed, prodotto non commerciabile, è l'avvertenza stampata sulle scatole assieme alla ragione sociale della ditta giudicataria dell'appalto. Avrebbero potuto sfamare famiglie povere e invece adesso ciberanno gli animali domestici. La signora Lidia sta usando quegli alimenti per i tre cani che ha nel cortile, per i polli e le galline. Dai rifiuti è emerso anche un portafoglio femminile, con varie carte fedeltà di negozi e centri commerciali della città, indagano gli agenti del commissariato di Lanciano. Sul caso la procura frentana ha aperto un'inchiesta. Lungo la strada comunale Fontanella e chiusa il traffico, poiché in evidente stato di dissesto, ci sono diversi punti in cui vengono abbandonati abitualmente i rifiuti. E ci si trova di tutto, dalle bottiglie di plastica a pezzi di vecchie coperture in Ethernet e in frantumi, da elettrodomestici come ventilatori, aspirapolveri, ad ante di mobili e ancora giocattoli e peluche. Sporgendosi poi con cautela verso il fosso, si scorgono anche reti metalliche e bombole di gas buttate sul terreno scosceso. Verrà qualcuno a bonificare prima o poi?